Lei scuse che sarebbero arrivati i jet? No, dissi che a suo tempo avevano deciso di non darli. Io personalmente gli avrei mandato di prima. Anche i nostri ministri hanno sempre garantito che questa è l'ultima, non ci saranno ulteriori scaletti. Era l'ultima spiaggia, i medici armati dovevano andare. Ormai stiamo entrando noi in guerra, ma più saggiamente non sarebbe stato opportuno, dopo già le prime forniture militari offerte all'Ucraina per ovviamente contrastare l'invasione, non sarebbe stato più saggio, anziché tutti, dire che non si potrà mai trattare assolutamente un criminale pazzo, non dobbiamo mai trattare, dobbiamo vincere, 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 sconfiggere Putin. Non sarebbe stato più saggio sedersi a un tavolo, a un negoziato, non arrendersi. Ma è Putin che non vuole mediare, lei lo sa. È Putin che non vuole mediare. Io ho sentito dire però che il Papa deve stare a casa sua e non deve sperimentare. Intanto in Ucraina è stato... Lei ha parlato con Putin, ha detto che non vuole mediare. Ma come si fa a dire, tra l'altro, come si fa a entrare nella testa di Putin e capire quali sono i reali interessi in gioco se non si costruisce? Ma di che cosa avete paura? Di costruire un tavolo negoziale? Ma assolutamente no. E di scoprire qualche cosa veramente vuole Putin? Ma scusi, ma lei accetterebbe un tavolo negoziale con i russi in casa? Lei accetterebbe un tavolo negoziale con i russi? Di noi allora... Che hanno occupato le quattro aree... Allora diciamolo che questo è il tema. Lei ha perfettamente interpretato oggi la postura collegata alla strategia militare. Noi non ci sediamo a un tavolo negoziale fino a quando non avremo sconfitto Putin. Putin ha 6.000 attestate nucleari. Come mi risponde? Allora Putin sa benissimo non poter utilizzare... Se la guerra la vinciamo il tavolo nemmeno non serve più. Quindi per voi il negoziato non esiste. Ma per lei allora non esiste. Come conziazione neppure astratta. Presidente allora devo dirle che... È un errore che stiamo facendo strategico. Ma per lei è irrilevante che un paese soprano venga in maso? Ma guarda... E mi scusi se noi adesso... Così mi offende con questo comando mi offende. No, mi scusi. Perché allora ritorniamo al filo putiniano? No, questo mai. Ritorniamo alle liste di posizione. Questo mai. Mi vuole dare il filo putiniano? No, no, no. Se lei mi dice questo mi sta dicendo filo putiniano e mi offende. Allora gli arametto diversamente. Perché offende la posizione politica, strategica, geopolitica di un intero movimento che da subito ha scritto quel che sta accadendo. Allora. Noi abbiamo capito per primi quello che sta accadendo, l'abbiamo fatto alla luce di una certa esperienza anche studiando con esperti, confrontandoci.